Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo un box coreano esclusivo OCG che sembrerebbe ottimale per Goat ed Edison, ossia l'expansion pack volume 2. Ho acquistato questo box da Jack Store con cui ho ottenuto l'affiliazione da poco quindi se siete interessati a questo tipo di prodotti vi lascio il link diretto del prodotto in questione qui sotto in descrizione e nei commenti e c'è anche appunto il mio codice sconto quindi appunto controllate la descrizione. Prima di parlare del pack abbiamo anche il piccolo omaggio sempre dato dal nostro amico Gianni che... ah vabbè avevo ordinato anche un come vedete un zombie goblin secret coreano molto molto figo poi sono fighe le carte coreane perché sono molto economiche questo appunto è il sito in questione e attenzione abbiamo un pack anche di leggende il drago bianco occhi blu quindi approfittiamone e apriamolo subito prima di continuare con il nostro box rispetto di trovare nulla di eccezionale però non apriamo lo stesso allora abbiamo una bella cosa di drago ok abbiamo una carta che è relativamente utile anche per il gotton fusione che non ci fa schifo insomma allora vedete sempre il link al prodotto qui sotto nei commenti e parlando invece del pack in questione allora non conosco tutte le carte al suo interno questo box è composto da 25 bustine mi pare sì ma per ogni bustina avremo otto carte ed è un po particolare come come box dato che è composto da gold secret e mettiamolo qui dato che dobbiamo dare il primo piano alle carte allora di carte interessanti per il got e infatti si sente che un po più spesso rispetto agli altri box di carte interessanti stavo dicendo per il got e per l'edison abbiamo diciamo carte come il kiko che era super ma anche diciamo la carta che più vorrei trovare all'interno del box e la royal oppression questa è buona per chi vuole giocare il chamberlain anche su un mazzo di merda buco trappola come rara continua questo il cannone è un desonico e un descoala quindi diciamo come vedete sono carte molto molto adatte per edison e got e dicevo vorrei trovare il kiko super che appunto è una carta che mi interessa ma soprattutto la royal oppression che per chi non lo sapesse nel formato edison è una delle carte più diciamo costose del formato e averla diciamo anche in coreano non mi non mi dispiacevo che abbiamo il drago lancere che la rara della bustina quindi diciamo che le gold le super o quant'altro non sono diciamo assicurate nelle bustine ma dovrebbero essere diciamo assicurato in un certo numero come al solito nel box ok il mio corpo come scudo una delle carte più sottolontate in edison secondo me il mask of wrestling anche questa la wangu tiger questo cosa non mi ricordo mai come si chiama il biondone col baffone è una delle carte più vecchie di yuki ma secondo me anche parolossalmente più interessanti questo è appunto fra i primi artwork che più un po rappresenta il primo stile della prima serie delle prime carte va bene il libro della vita frattura ray jacky questo ottimo per goat il mago bla 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 ok pure questa è un'ottima carta che il goat diciamo blocca tutte le magie possibili e immaginabili e niente quindi l'obiettivo un po' del video è trovare anzitutto il nostro kiko e la royal oppression come dice il corpo come scuba zoo tartaruga piramide questo in effetti mi serviva l'avevo ordinato secret addirittura un drago avido anche bel giallone da millenove drago guardate che bello e adesso molto molto figo ragazzi io da parlando sempre del negozio da cui ordino le carte ho ordinato praticamente un giorno fa e vabbè ovviamente è rilissima differita però mi è arrivato letteralmente il giorno dopo ho fatto what the pack quindi affidabilità 100 per cento garanzia stardust una necrovalle molto molto figa e ancora nessuna poi però abbiamo la necrovalle rara e parlando della necrovalle me l'avevano chieste anche un po sul server disco del canale quindi se siete interessati un po unirvi alla mia community su discord trovate sempre il link i link utili appunto come dei miei social instagram facebook discord qui sotto in descrizione dove appunto vi do consigli se vi serve e anche guida appunto per sapete qualche box in particolare che vorreste comprare dei box coreani vi consiglio tranquillamente e appunto se siete giocatori di edison e got questo sempre un ottimo box da acquistare se siete giocatori di entrambi i formati uniti resistiamo la rara ok adesso come si chiama tesla coon in italiano non mi ricordo non mi ricordo affatto allora non mi ricordo a che pack siamo ma dobbiamo cercare un po la gold ok mask of plastic da che non ne avevo nemmeno una praticamente ormai ne sono quasi 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 pieno e soprattutto ragazzi in questi giorni sarò un pochettino impegnato perché stavo pensato un po di aprire non il mio store online ovviamente ma il mio profilo su penso su kartrader quel che sarà per cominciare a vendere un po di carola dustshot ecco una delle carte più interessanti per il set per quanto riguarda edison ma anche got stesso però per l'appunto come vedete è rara quindi diciamo una rarità che da noi in tcg in occidente ho detto bene sì stavo confondendo non è ancora arrivata e di foil ancora però non abbiamo visto nessuno ok abbiamo la gold e ogni volta io me le chiamo le carte il ring of destruction gold in coreano perché si ragazzi in questo in questo box troveremo sia secret che super che gold diciamo abbiamo un miscuglio di di rarità la secret se non erro non dovrebbe essere assicurata all'interno della box però uno ci spera sperare non costa nulla vabbè vabbè signori ce l'abbiamo fatta posso interrompere il video l'ho trovata royal action of pressure gold penso una delle carte più costose del set e una delle più ricercate niente il clientillo ha funzionato anche sto giro quindi qui sotto nei commenti come al solito hashtag chiantillo la tecnica del chiantillo perché che per chi è nuovo il chiantillo lamentarsi di qualcosa che non avviene mai e poi avviene è un po come augurarsi le cose ovviamente in bene e niente royal action so contento posso chiudere il video posso andare a casa sono già a casa però vabbè dettagli e piccolo spoilerino caso che questo video dovesse uscire prima del accaduto ma penso di sì farò un video con uuu è un ultra il twister ultra ma che bello poi questa è una delle carte che più gioco in edison e che nessuno si caca praticamente comunque stavo dicendo farò un video con un ospite anzi più ospiti speciali su un altro canale ma non vi voglio spoilerare nulla mi sono procurato un box da aprire assieme a loro ma a tempo debito diciamo uscirà il video penso fra un paio di settimane o tirare il tappeto ultra e questa è un'altra chicca ragazzuoli questa è un'altra delle carte più ricercate in edison che una poi la trovi rara pure a play e da 4 euro e l'ultimate vabbè prima non costava nulla poi sono spopolati i retroformat e ciaone ai prezzi di molte carte la secret eccola qui che è la spada quella che equipaggiavi su lei dark e ti tornava continuamente in mano quindi è questa qui non la migliore per il set però abbiamo trovata però ripeto non so nemmeno se fosse assicurata o meno o se lo fosse vabbè abbiamo trovato la secret però abbiamo la royal oppression io diciamo quello che mi auguro di trovare il kick super abbiamo trovato la super che la ruota incubo una delle carte più giocate in got e ragazzi io sto preparando una guida non per il got ma per un altro formato il motivo per cui non carico le guide così spesso è perché sono video che richiedono diciamo eccolo eccolo qui il kick super abbiamo trovato quello che volevamo signori abbiamo trovato tutto quello che volevamo c'è addirittura tirare il tappeto ultra se ne troviamo un'altra ancora più felici ma mi pare le ultra fossero due per box comunque e non mi ricordo che stavo dicendo porca miseria ho l'attenzione di un bravo anzi di un koala già che siamo al tema ok l'iniezione fatata super niente ragazzi ho perso il filo del discorso mi dispiace se vi stavo dicendo qualcosa importante fatemelo sapere qui sotto nei commenti ma il mio deficit di attenzione è veramente basso a quanto pare Asura l'altra che volevamo e non mi ricordavo ci fosse nel set mamma mia ma sto box va proprio di goduria goduria pura ma sto veramente godendo questo box sono veramente veramente contento quindi ragazzi se volete scullare andate su dad jack store fateglielo presente diciamo voglio i box come li dai a stardust per piacere le ne mandi qualcuno la wangu tiger che prima l'ho scartata ma la volevo mettere qui perché come una delle carte carte più sottovalatari di sempre per me è fortissima in edison ecco se siete interessati a contenuti edison eppure se siete nuovi nel canale e state guardando questo video iscrivetevi così potete vedere tutti appunto varie backlist unboxing relativi appunto all'edison tant'è che ho una rubrica che si chiama best edison format box qui abbiamo le migliori espansioni a mio parere dedicate al formato edison la maggior parte sono in coreano visto che recuperare i prodotti in reates fuori frigo visto che recuperare i prodotti già un tcg di quelle espansioni non è impossibile ma diciamo è poco accessibile visto che per fare un esempio un box di oscurità fantasma può andare anche oltre i 1000 euro per fare un esempio lo stupido è diciamo non è il massimo donzaro inconsapevolmente l'ho sbustato una delle carte chiamate in got e ce lo teniamo qui quindi ultima bustina c'è abbastanza aria quindi potrebbe esserci qualcosa attenzione ne andremo molto 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 lentamente e dopo tutto che si è sbustato non mi ricordo nemmeno quale fosse la carta foil quindi andiamo piano piano no e il buco trappola infatti ok no non c'è nulla però abbiamo trovato un buco trappola e quindi ragazzi poi se siete interessati appunto alle tecniche survival e trovatele tutti i video sul canale molti mi chiedono consigli sulle liste drago se volete ve ne porto un'altra versione aggiornata ma sto testando ancora perché è una versione molto molto spicy più la versione virus dragon se siete interessati scusate un po' per la premium check sì però dovrei abituarmi a parlare in questa maniera non ci non dovremo vergognarci vabbè per il conto abbiamo trovato le carte che più vogliamo abbiamo trovato una dust shot che me auguravo ma ok è uscita la royal pression ring of destruction e ottime carte diciamo sia per ripeto tutte giocavi tranne forse questa onestamente non l'ho proprio vista giocare per il resto tutte letteralmente tutte le ho viste giocare quindi ragazzi grazie a me per guardare il video fino a questo punto ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e se siete interessati ad eventi come tornei quant'altro rimanete aggiornati appunto con con me soprattutto sul server discord e i social quindi arrivederci al prossimo video see you next time